Ciao, sono Fabrizio Casellato, TDP Italia, ho 42 anni e arrivo da Torino. Il progetto finalista MECTUCAR 2018 consiste nella realizzazione di un sistema che permette la visione a distanza della glicemia rilevata da un sensore glicemico a posto sul corpo di un paziente diabetico. La visione a distanza permette ad un medico o anche ad un papà, come sottoscritto, di vedere la glicemia del proprio figlio sul proprio PC, sull'orologio o sul telefono, che ad esempio si metterà a vibrare per dire che il figlio è in ipoglicemia, nel qual caso il papà potrà telefonare immediatamente a scuola per dire alle maestre «Date un po' di zucchero a mia figlia che sta andando in ipoglicemia». Scongiurando così l'ipoglicemia, appunto, che ricordiamolo, può portare anche a conseguenze gravi. Senza un sistema di visione remota tutto ciò non sarebbe possibile e magari la bambina dovrebbe stare a casa invece di poterla frequentare.